L'ex governatore Michele Iorio prova a lanciare un sasso nello stagno della politica molisana e battezza un nuovo movimento denominato Insieme per il Molise. La proposta verrà presentata venerdì pomeriggio a Isernia ed ha l'obiettivo di creare un'alternativa all'attuale maggioranza che governa la regione. L'idea di Michele Iorio è anche quella di recuperare una parte del centrodestra che alle ultime elezioni regionali si schierò con il centrosinistra e con Paolo Frattura. Siamo di fronte a un'emergenza in Molise e noi non possiamo più attendere. Dobbiamo assolutamente riprendere un dialogo costruttivo perché nasca una vera e consistente alternativa a questa maggioranza di governo che sta distruggendo letteralmente la nostra regione. L'iniziativa è prevista a Isernia? È Isernia alle 17.30 di venerdì prossimo all'Hotel Europa e spero che ci sarà l'adesione che mi aspetto. Dove si colloca questo movimento all'interno dei vari schieramenti politici? Sicuramente prende spunto dalle esperienze di governo che noi abbiamo fatto in tutti questi anni. apre però le porte a tutti quelli che vorranno partecipare per costruire insieme una proposta credibile, una proposta per il futuro del Molise riprendendo un discorso interrotto e rafforzandolo anche con le nuove leve che vorranno misurarsi con l'impegno politico. Ci sono alcuni mal di pancia anche all'interno del centro-sinistra? Sì, sono notevoli i mal di pancia. Questa maggioranza è spuria e ha dimostrato dall'inizio di non essere assolutamente omogenea, non essere in grado quindi di poter guidare nessun cambiamento se non peggiorando la situazione. Abbiamo preso lo spunto, prenderemo lo spunto dalle tre priorità che abbiamo individuato che sono il lavoro, la sanità e le infrastrutture. Intorno a questo io credo che c'è materia per discutere e per elaborare una proposta alternativa magari augurandoci che l'esperienza governativa esistente, Frattura & Company possano decidere di lasciare per dare ai cittadini polisani una nuova possibilità di scelta.